F1, Williams, ufficiale l'addio team principale host Capito. Roma la Williams cambia due pedine importanti ai vertici. Nel bel mezzo della sosta invernale della Formula 1. La scuderia britannica ha annunciato l'addio del team principale host Capito e del direttore tecnico François Xavier de Maison. Capito ha parlato dopo l'ufficialità dell'addio, è stato un grande privilegio essere a capo della Williams Racing per le ultime due stagioni e gettare le basi per la svolta di questa grande scuderia. Non vedo l'ora di vedere la squadra mentre continua il suo percorso verso il successo futuro. Il commento di Savage anche Matthew Savage, presidente di Dorilton Capital, che detiene Williams. Ha parlato in occasione dell'annuncio, vorremmo ringraziare gli host per il suo duro lavoro e la sua dedizione mentre intraprendevamo un importante processo di trasformazione per iniziare il viaggio di rilancio della Williams Racing. Siamo grati che gli host abbia posticipato il suo ritiro programmato per affrontare questa sfida e ora passerà alle redini per la parte successiva di questo processo graduale. Virgola.